Come si chiama me lo ricorda? Solo il nome eh? Luca. Luca intanto grazie. Troppo fa freddo mi devo metterla già. Che differenza fa Luca fra farlo gonfiare da un benzinaio e lei? Nulla lei ha solo un'esperienza da capire. Ma cosa è successo? Come mai? Ogni tanto mi dà questo problema questa spia? Eh ma mi darebbe la spia per quello no? Non necessariamente. Luca ma è ancora in vita Vasco? Sì. Quanti anni sono che non è più operativa? Due? Tre? Tre? Ma è parente no? Lei è il suo parente no? E qual è il piacere nel fare il suo lavoro Luca? Ho appena accantato in lungo una parrucchiera di 73 anni che lavora ancora. Lei lavorerà ancora? Vasco? Volevo intervistarlo ma Vasco no? Perché ha lavorato fino a 77 anni? Lei lo sa o lo percepisce? Amava il suo lavoro. E qual è la magia? Io racconto spesso la magia del lavoro. Qua c'è un freddo cane. Questo lo percepisce tutto. Ah quindi è una Roma forata. Allora praticamente le altre erano tutte in versione perfette. Quella lì era un pochino più sgonfio. In questo caso le soluzioni... Dica dica. Sono due. Dica pure. Gonfio la gomma adesso. E' effetto la spia e guardiamo se si torna a spiare. Oppure se aspetta 10 minuti la spioniamo e guardiamo cosa c'è. Ma intanto la gonfi. E vediamo che effetto fa. Io giro un po'. A che ora chiude Luca? Io sono qua fino alle 7. Allora facciamo così. Me la gonfio? Sì. Io mi sposto che poi farò un'intervista insomma. Oggi è meglio di me. Eh? Oggi è meglio di me. Le ringrazio. Oggi è meglio di me. No no non faccio un'intervista a lei. Dico faccio un'intervista io da solo. No no no. Dico dopo vado insomma mi fernerò a un certo punto. Vado a casa. E dopo vediamo come va. E' aperto anche al sabato no? Quindi facciamo vedere che ressecca la spia. Quanti anni ha Luca? Pochi. 38. Di dove è? Allora vivo da Reggemira da più di 20 anni. Sono di Salerno. Paese? Mercato Sanseverino. Sanseverino mi scusi? Mercato Sanseverino. Ah mercato. Abitanti? 20.000? 30.000? Sì. Come sta un salernitano a Reggio? Bene? Bene. Quanto è alto? Mi piace spiazzare. Molto. 70? Eh? 1.70? No 1.65. 7.5? 1.65. 1.65. Allora io ho risultato qui. Quindi siamo a posto. Devo solo uscire qua dietro. Devo solo far spostare il signore. No. Poi ci invidiamo. Ah. Quindi vado di... Allora se si riaccende però mi raccomando venga... Rapidamente. Rapidamente. Che ora chiude domani? Alle 12.30. Al massimo faccio venire mia moglie. Sì. Ok. Di quanto ha bisogno se deve rammendarla? Per ripararla 15 ore. 15 ore? 15 no. 15 minuti? Per ripararla? No. Cioè se fosse forata... Mezz'oretta. Mezz'oretta. Quindi entro le sei e mezza ma oggi ma adesso non ha... No. Oggi non ha tempo per l'intervista però... Però se ho bisogno della gomma... Grazie Luca. Mi scusi? Mi dà il numero di Vasco? Vabbè lei lo conosce e non me la fa vero? Grazie. Ecco. Le voglio. Facciamo vedere qua. I laboratori. Bellissimo. Pieno di pneumatici. Freddo cane. Boreale. La gina Torre Alva. Torre Alva. Eccoci qua allora. Buona giornata. Abbiamo sistemato anche la spiade. Sono le 14 e... Adesso dobbiamo andare... Vediamo. Dovrò intervistare Massimo Magnani quando avrà tempo. Uno. Vediamo dove farlo. Due. Caricamenti bloccati. Per noi è un bel problema. Tre. Pazienza. Quattro. E così. Quattro. 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 Quattro.